Ho due domande da farle al volo, che dobbiamo poi andare avanti, che ho ospiti che mi aspettano da un bel po'. Ma ce l'ha con Silvio Berlusconi, che non avete votato ieri in Commissione Trasporti alla Camera, né voi, né Lega, la norma cosiddetta Salvia Mediaset, che è una norma tanto importante per Berlusconi? Perché avete fatto questo sgambetto a Silvio? No, questo è falso, questo è falso. Noi abbiamo già votato la norma su Mediaset e non per Silvio Berlusconi, francamente. Io l'ho votata, anzi sono stata tra i primi a proporre che ci fosse una norma ponte per evitare una scalata straniera a un'altra azienda strategica italiana. E ripeto, non per Berlusconi, ma perché considero che questa sia una stagione nella quale più che mai dobbiamo difendere le nostre aziende strategiche. Segnalo sommessamente che mentre noi ci occupiamo del Covid, l'Italia sta perdendo altri pezzi fondamentali. Devo dire anche perché il governo è in altre, evidentemente, o è d'accordo o è in altre faccende affascendato. Lei è d'accordo con quella norma? È solo Salvini che è il contrario? Non ho problemi. Sì, sì, io sono d'accordo e l'ho pure già votata la norma, perché sono d'accordo sulla norma. Dopodiché il resto, diciamo, fa parte di un altro dibattito. Guardi, a me mi è arrivata la notizia che ieri in Commissione di Trasporti avrebbe votato contro. Molinari ha parlato di una pregiudizia di costituzionalità. La norma è passata, adesso? No, allora, la pregiudizia di costituzionalità deve ancora arrivare in aula e quindi non si è ancora votata. La norma, che da quello che so io, poi adesso verificherò la Commissione di Trasporti e la Camera ieri, ma questa norma è passata al Senato, noi siamo in seconda lettura sul decreto emergenza, ok? Alla Camera? La prima volta, quando è passata al Senato, no, la prima volta, adesso siamo alla Camera in seconda lettura. In aula non è ancora arrivato, ok? Adesso verifichiamo la Commissione, ma è invece già passata al Senato la norma. E sulla norma, Fratelli d'Italia ha votato a favore. Comunque, è importante che lei è favorevole. Io sono d'accordo nel merito, perché ripeto, sono sempre d'accordo a difendere ciò che è italiano, a differenza, diciamo, di tanti altri che invece difendono ciò che è italiano quando pensano che gli possa servire politicamente, come magari nel caso di specie. Ho un'ultima domanda da farle. Invece noi sulla difesa italiana ci siamo.